Paragrafo 5.4 Il centro di gravità. Un corpo appoggiato. Hai mai provato, stando eretto ai piedi uniti, a inclinare progressivamente il tuo corpo in avanti o indietro, come fanno questi ragazzi in figura, in modo tale che il busto resti allineato con gli arti ben tesi? Di solito il tentativo si conclude rapidamente. Per istinto, non appena ti accorgi di stare per cadere, sposti un piede in avanti o all'indietro e ristabilisci l'equilibrio. Ma perché questo movimento impedisce la caduta? Il fatto che i corpi rigidi estesi si comportano come se la forza peso che agisce su di essi fosse applicata in un punto particolare, detto centro di gravità o baricentro. Il centro di gravità o baricentro di un corpo rigido esteso è quel punto in cui possiamo pensare applicata la forza peso dell'intero corpo. Si può verificare facilmente che un corpo appoggiato resta in equilibrio e non si rovescia, fin tanto che la retta verticale tracciata dal centro di gravità verso il suolo cade all'interno della base di appoggio. Vediamo alcuni esempi. Allora, con un parallelepibedo articolato si può vedere che si ha l'equilibrio fin tanto che la verticale passante per il baricentro, filo collegato al pesetto, cade nella stessa base d'appoggio. Vedete? Quindi fin quando questo filo collegato col pesetto cade all'interno della base di appoggio di questo parallelepibedo articolato, cioè che vuol dire snodabile nei punti in cui è bullonato, vedete? Quindi snodabile, fin tanto che il peso cade all'interno della retta, questa retta qua passante per il filo rosso e il peso cade all'interno della base di appoggio, tutto questo, chiamiamolo parallelepibedo snodabile, resta in piedi in questa, più o meno in questa posizione. Mentre quando ciò non accade più, quindi quando il peso esce fuori dalla base di appoggio, allora ecco che si rovescia provocando una rettazione verso il basso. La stessa cosa qui vediamo il clown che ha delle scarpe gigantesche di gran lunga superiore al proprio numero. Allora in questo caso vedete più o meno il baricentro di una persona umana si trova all'altezza dell'ombelico, quindi questo è il baricentro dove è concentrata, applicata la forza peso, quindi la retta verticale passante per il baricentro è questa. Quindi vedete il clown si inclina in avanti, fin quando questa retta cade all'interno della base di appoggio, come in questo caso, il clown sta in piedi. Quindi ecco perché usa delle scarpe grandi e rigide, proprio per fare questo movimento che a noi fa ridere quando lo vediamo. Quindi il clown non perde l'equilibrio perché il suo baricentro cade ancora nell'area di appoggio. Le scarpe sono molto lunghe e questo è il motivo. Nel caso di un uomo fermo e in piedi, il baricentro si trova all'interno del corpo all'altezza dell'addome e normalmente la verticale passante per tale punto G rientra nell'area delimitata dai piedi. Tuttavia se la persona si inclina, questo non si verifica più e cade. Lo spostamento in avanti del piede fa sì che aumenti l'area d'appoggio che impedisce la caduta. Quindi quando stiamo perfettamente in piedi, diciamo sull'attenti, ecco che la linea del baricentro, quindi immaginiamo il clown perfettamente in posizione verticale, allora la linea del baricentro cade praticamente in questo punto. Vedete? Quindi se uniamo le punte dei piedi e stiamo in perfetta posizione sull'attenti, la proiezione di questo punto sul pavimento rispetto alle scarpe è qui, ok? Quindi se ci spingiamo in avanti, cosa succede? Questo punto si sposta in avanti e fin quando si trova all'interno della base d'appoggio, allora non cadiamo, non ci rovesciamo, ma basta che questo punto G primo, la proiezione di G cada al di fuori, quindi al di fuori della base d'appoggio, ecco che tentiamo di rovesciarci e cadere. Allora allargando un piede, quindi spostando un piede verso destra in avanti, ecco che la posizione del baricentro G primo praticamente rientra all'interno di questa che è divenuta ora la base d'appoggio dei nostri piedi. Questo è l'equilibrio di un corpo appoggiato su di un piano. Andiamo a vedere adesso il caso di un corpo appeso. Ecco, qui abbiamo il disegno, abbiamo un quadro, ok? Questo succede adesso, il quadro come vedete l'abbiamo leggermente spostato dalla sua posizione di equilibrio stabile, che è questa, ok? Infatti da questa posizione il quadro immediatamente ritorna a questa posizione, detta appunto di equilibrio stabile. Collegata al baricentro è anche la posizione assunta da un quadro appeso a una parete. Se lo spostiamo significamente di un lato, ritorna spontaneamente nella posizione originale, quindi se io lo sposto, lui automaticamente ritorna poi ad avere questa posizione. In effetti, un corpo appeso tende a posizionarsi in modo che il suo baricentro assuma la posizione più bassa, sempre che i vingoli glielo consentono. Allora, in pratica, il baricentro di questo quadro, più o meno è qui nel centro, in questo punto qui, ok? Allora, qui abbiamo un oggetto appeso. Il chiodo cosa rappresenta? Un vingolo, cioè quell'oggetto che impedisce al quadro di cadere verso il basso per effetto della forza di gravità. Quindi la forza di gravità, in questo caso, è praticamente applicata in questo punto. Quindi è qui il peso di un corpo. Eccolo qua. Questo è il peso. Quindi allora cosa abbiamo? La posizione del baricentro, questa è la posizione del vincolo, allora un corpo appeso è in equilibrio stabile quando la posizione del baricentro è più in basso rispetto al vincolo, ok? Quindi questo si dice equilibrio stabile. Quindi stabile il quadro allontanato di poco dalla posizione di equilibrio tende a ritornarci. Il baricentro G si posiziona lungo la verticale che parte dal punto di sospensione P e al di sotto di quest'ultimo. Quindi punto di sospensione P, vincolo, baricentro G, quindi vedete che i due punti sono sulla stessa retta e il baricentro si trova più in basso rispetto al punto P. In questo caso parliamo di equilibrio stabile. Mentre abbiamo un caso in cui l'equilibrio instabile, il quadro spostato dalla posizione di equilibrio stabile, quindi da questa, quindi spostato da questa posizione, vedete dove si trova il chiodo, se ne allontana senza tornare alla situazione iniziale. Il baricentro G si trova lungo la verticale che passa da P ma al di sopra del punto di sospensione. Ecco, in questa situazione qui, vedete, qui abbiamo il punto P, come vedete abbiamo trasferito il punto P in basso rispetto al baricentro. Adesso può darsi che il quadro stia in questa posizione, anche se per pochissimo basta un leggero alito di vento, chiaramente si sposta e torna a riassumere la posizione che chiameremo come posizione di equilibrio stabile. Questo invece è un equilibrio leggermente instabile. E poi abbiamo il terzo e ultimo caso, indifferente. Il quadro ogni volta che viene spostato dalla posizione di equilibrio, rinomale in equilibrio. Anche nella nuova posizione, assunta, il baricentro G coincide con il punto di sospensione. Cioè qui abbiamo il caso in cui praticamente il punto di sospensione P e il baricentro è come se avessimo messo il chiodo in questa posizione qui. Qualunque sia la posizione del quadro, beh, cerca di mantenere questa posizione. Questo viene appunto chiamato equilibrio indifferente. Grazie.